Schiaffi, sputi e gomitate ai danni di studenti e studentesse di 13 anni da parte dell'autista del bus che li ha portati in gita scolastica fuori Pesaro in Friuli, Venezia Giulia. Per questo ci troviamo qui, davanti all'Istituto Gaudiano, l'istituto comprensivo degli studenti che risulterebbero vittima di questa vicenda. Da quanto emergerebbe, alcuni ragazzi durante il tragitto avrebbero iniziato a fare quello che tutti i giovani fanno in gita, cori, casino, rumore. Ciò avrebbe portato all'esasperazione l'autista che una volta fermato l'autobus, dopo che alcuni ragazzi e i docenti sarebbero scesi, avrebbe abbandonato la postazione di guida per recarsi sul retro del bus raggiungendo i ragazzi più rumorosi. Prima li avrebbe minacciati di tirar loro un pugno, poi sembrerebbe averci ripensato fino a che, tra bestemmi e parole forti, avrebbe deciso di tirargli uno schiaffo. Non contento, da quanto emergerebbe, avrebbe poi afferrato lo studente per la maglietta e poi gli avrebbe sputato addosso per poi minacciarlo nuovamente. Nel caos, una ragazzina nel tentativo di separare l'autista dallo studente sembra che sia rimasta ferita da una gomitata dell'adulto. La vicenda è emersa soltanto il giorno dopo l'accaduto da una telefonata intercorsa tra una madre e la ragazza vittima della gomitata, mentre da parte dei docenti, da quanto racconterebbe, la sera prima sarebbero arrivate delle rassicurazioni. Da lì la voce si è sparsa nella chat del gruppo dei genitori, che avrebbero atteso la scolaresca e l'autista al rientro dalla gita, ma alle scuse dell'autista la reazione dei genitori sembrerebbe essere quella di denunciare lui e probabilmente anche l'istituto per la negligenza. Grazie. 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 Grazie.